Ci sono partite che tu li vinci anche soffrende, quella di oggi è una partita di questo tipo, contro l'Acagras la Vibonese vince 2-1, 1-1-2 nel primo tempo firmato Tandara è convinto, 15esimo e 18esimo che può mettere il capo a qualunque squadra ma l'Acagras ha giocato, è riuscito a uscire da quello 1-2 pazzesco, però altrettanto la Vibonese oltre al gol di Di Mauro ha lasciato poco e niente agli avversari, una Vibonese che si è saputo difendere e attaccare, questi sono punti importanti, quando a fine stagione succede puoi anche vincere o puoi perdere, vai a vedere le partite che ti hanno portato quei punti in più e quei punti in meno e questa è una di quelle partite che ti dicono che hai portato 3 punti in più. iscrivetevi al canale e ci vediamo alla prossima. Ciao!